San Tommaso, Val Madrera, domenica pomeriggio. Il sole caldo, i bambini che corrono e giocano su un prato dal colore sempre più acceso. Gemme che stanno per sbocciare e altre che sono già fiorite nello spettacolo dei mandorli in fiore. Grazie a tutti. E' solo il 9 marzo ma sembra già primavera e queste piante incorniciate dal cielo azzurro e circondate da una corona di montagne a noi ben nota, ancora per pochi giorni faranno bella mostra di sé con il loro colore bianco e rosa, vero spettacolo della natura. San Tommaso è un piccolo borgo rurale dove il tempo sembra essersi fermato. Un balcone naturale a 580 metri di altezza raggiungibile da Val Madrera in meno di un'ora. Oggi qui è già primavera.